Allora, il ciclocross è anche snobbato da molti, perché si pensava qualche anno fa che potesse far male Ciao a tutti e benvenuti in questo video, oggi andiamo a parlare di ciclocross Siccome è la specialità del momento, cioè si corre dal mese di settembre all'incirca fino al mese di febbraio Poi dipende anche le zone del mondo in cui si corre È una specialità che va molto forte in Belgio e Olanda Belgio e olandesi sono anche i più forti della specialità, a parte qualche raro caso Difatti possiamo trovare Mathieu van der Poel, il campione del mondo di ciclocross in questi ultimi due anni Seguito prima da Wout van Aert, ma comunque il più conosciuto di solito è stato Sven Nys, sempre belga Stessa cosa anche nel ciclismo femminile Difatti troviamo Selina Alvarado, campionessa del mondo essendo olandese E se andiamo a vedere nella storia troviamo sempre principalmente gli olandesi e i belgi Che ne fanno proprio parte di questo parterre Perché non tutti fanno il ciclocross? Allora il ciclocross è anche snobbato da molti Negli ultimi anni sta tornando un attimo a galla Perché si pensava qualche anno fa che potesse far male per uno stradista o un biker che poi corre la stagione d'estate Siccome il ciclocross è una disciplina invernale Correndosi proprio da ottobre, da settembre fino a febbraio È una disciplina molto esplosiva perché si corre in un'ora di gara In un'ora e si corre in un circuito Appena partono fanno un giro In questo giro gli prendono il tempo del giro E in base a quanto tempo è stato impiegato per fare il primo giro Si deciderà poi quanti giri fare successivi Perché il primo ovviamente farà un'ora di gara Se qualcuno poi viene doppiato nel giro Ovviamente fa anche lui un'ora di gara Quindi non deve farci gli stessi giri che ha fatto il primo classificato I percorsi sono molto vari nel ciclocross Difatti un ciclocrossista non si allena sempre e solo con la bici a ciclocross Ma può avere diversi allenamenti Principalmente su allenamento lo fa su strada Allenerà sicuramente qualche volta a settimana anche la tecnica Ma tante volte si dovrà allenare a piedi Perché se non avete ancora visto una gara Tante volte li vediamo correre a piedi O perché il percorso è impraticabile Cioè o nella sabbia Principalmente troviamo tante gare Che sono proprio svolte su delle spiagge di sabbia Che trovano proprio dei pezzi molto fangosi Quando inizia a piovere tanto Ovviamente essendo un inverno I terreni non saranno mai asciutti al 100% Dove diventa impraticabile la situazione Per il troppo fango Esempio l'europeo di ciclocross Dell'anno scorso svolto a Silvelle Che è stato proprio modificato dagli organizzatori Perché poi si sarebbe corso troppo a piedi E questa è una delle particolarità del ciclocross Che è molto imprevedibile Difatti anche nelle gare Quando le vediamo Appena partono e appena arrivano Il percorso ogni giro cambia E soprattutto con le condizioni atmosferiche Se partono con l'asciutto E poi per caso succede che cade un po' d'acqua A metà della gara potrà cambiare del tutto il percorso Negli ultimi anni si tende a fare dei percorsi Molto più veloci dunque tecnici Rispetto ai percorsi che si facevano tanti anni fa Dove si tendeva a mettere tanti ostacoli artificiali E si tendeva a far correre proprio tantissimo a piedi Gli atleti Le gare più importanti che si possono trovare nel ciclocross Sono varie Le più importanti sono di solito nel nord Europa Cioè Belgio e Olanda La più importante è la Coppa del Mondo Seguita dal Super Prestige Le Tia Scross sempre in Belgio Le ZK Cross in Svizzera E così via Si assegnano ovviamente anche come nella strada La maglia sia di campione europeo Che la maglia di campione del mondo Ogni suo circuito assegna proprio la sua maglia Nella Coppa del Mondo che è la gara più importante Il leader della classifica La classifica che è stata fatta dai piazzamenti Cioè il primo ha un punteggio Il secondo ha un punteggio E viceversa La somma di questi poi andranno a creare la classifica Il leader porta ogni gara la maglia di leader Come in una gara tappe del circuito su strada Come funziona la griglia di partenza? Che per un neofita che non può conoscere i meccanismi Vedendo i primi che comunque sono sempre avvantaggiati Quelli che partono davanti Si va in base al punteggio Proprio si guarda la classifica del ranking Di solito è il ranking mondiale nelle gare che si vedono in tv Ovviamente i primi 5-10 Dipende in base alla partenza che si fa Partono davanti e così via Chi è ultimo in classifica parte ultimo Che bici si utilizzano? Se non avete ancora visto il video che è stato pubblicato settimana scorsa Dove parlo della differenza tra una bici a ciclocross e una bici da gravel Siccome sono molto simili Vi consiglio di andarlo a vedere Comunque un breve riassunto Ve lo faccio anche adesso Sono bici molto molto simili a quelle da strada Cambia un attimo la geometria Cambia un attimo il movimento centrale Come è stato posizionato È un po' più alto rispetto anche a quello della strada Per tutti gli ostacoli che vanno a saltare Hanno sia davanti che dietro Cioè nella forcella davanti che dietro Delle possibilità di far defluire meglio il fango L'acqua Perché correndo proprio al di fuori Se in una bici da strada li mettiamo dei copertoni Larghi come quelli a ciclocross Perché si arriva a un massimo di un 33 mm E si va in mezzo al fango Dopo poco Si infanga tutto e la ruota non gira più La bici da ciclocross ci consente di fare ovviamente delle gare Quindi ha dei canali bensì più larghi rispetto a quelli della bici a strada In una gara probabile che si cambia la bici anche molte volte Se guardiamo una gara soprattutto a livelli molto alti Si tende a cambiare la bici anche una volta al giro Quando le gare sono un po' più estreme dove c'è più fango Si tende a cambiare sempre la bici Proprio per averla più pulita E una bici più pulita ovviamente Uno pesa di meno perché non c'è il fango addosso E è sicuramente più scorrevole Quindi per questo si tende a cambiare bici spesso E per parlare di ciclocrossisti più famosi In Italia possiamo citare Daniele Pontoni che è stato campione del mondo Fine anni 2000 se non sbaglio Uno dei più famosi che ha fatto la storia del ciclocross in Belgio È Svennis Che è stato per molti anni in cima proprio a tutte le classifiche Ha smesso da pochi anni E al momento sta correndo suo figlio Che l'anno scorso ha vinto il campionato del mondo De Juniores Attualmente Sven ha una squadra Che è la Telenet Sicuramente in tanti lo conoscono È stato uno Che ha corso molti anni Ha vinto se non sbaglio tre campionati del mondo È Zenix Tibar Che corre attualmente con la De König Quick Step Anche lui è stato uno Che ha corso molto nel ciclocross E ha vinto tanto E gli ultimi Non per importanza ovviamente Perché hanno caratterizzato tutte le ultime stagioni Della ciclocross Sono tutti e due molto giovani Quindi da quando sono passati alla categoria maggiore Hanno sempre dato spettacolo Sono Wout Van Aert e Van Der Poel Proprio nel ciclocross L'hanno dominato in questi ultimi anni Soprattutto Matteo Van Der Poel Per l'anno scorso Tutte le gare che ha partecipato Ne ha persa solo una Tutti e due messi assieme Fanno tre mondiali a testa Quindi almeno gli ultimi sei anni Sono stati caratterizzati da loro E questo per parlarvi in breve Di questa stupenda specialità E spero che sia stata interessante E se questo video ti è piaciuto Iscriviti al canale per supportarmi Lascia un bel like E accendi la campanellina Perché appena uscirà il prossimo Sarai avvisato E io ti saluto E ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao